Sono molto onorato di ricevere questo premio da parte della società e del Comune di Terri. Io ho sempre collaborato volentieri durante manifestazioni, gare e quello come commissario tecnico, quello che ha vinto i miei atleti, non è io perché io avevo uno staff e li abbiamo vestiti, tra cui sono stati i miei atleti, gli allenatori e le società dei miei atleti. Qua io adesso dico, quando vedo un mio grande atleta, uno dei più grandi atleti che ho avuto io, che è presente e che ora è il commissario tecnico, ma oltre questo vedo i figli di lui e di tutti gli altri atleti che ho avuto oggi, che sono per i campi di gare, che fanno manifestazioni, che vanno a fare i mondiali. Io a tutti questi ragazzi qua, che fra poco partiranno per i mondiali, io ho un bel bocca e il lupo, comportatemi bene, cercate di vincere sempre più che si può. Se non si può vincere, va bene, abbiate pazienza, verrà più avanti, perché nella mia carriera c'erano molti atleti che non dicevano perché, perché hanno trovato gli effetti di forte. Mi dicevano, commissario tecnico, io ho dato tutto quello che avevi, io mi rispondevo, per me tu hai vinto, diventerai sempre una brava persona. grazie di nuovo, grazie di nuovo.